Al via il concorso La Legalità è, promosso da Lega Ambiente Campania, nell'ambito del progetto Ricominciamo dalla bellezza. Tema centrale del concorso è declinare le parole legalità e bellezza attraverso un breve filmato con disegno foto. Lo scopo del Bande è quello di raccontare e premiare le migliori esperienze e idee messe in atto sul territorio, che guardano l'economia circolare, alla salvaguardia dell'ambiente, a rispetto della legalità, per rigenerare e produrre bellezza nelle comunità. Possono partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti nella regione Campania. È possibile partecipare al concorso in forma individuale o in gruppo. Le proposte dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2016 tramite l'apposita sezione del sito www.campagnasostenibile.it. La giuria sarà composta dai rappresentanti di Legambiente Campania e del mondo della cultura, della scuola e della società civile. Legambiente offrirà come premio un ticket di ingresso a Comicon 2017, salone internazionale del fumetto e del gioco e un abbonamento alla rivista La Nuova Ecologia.